la prima serie Maria Vittoria Baldin uno Alice Fusto alla due Irene De Biase corsia tre Eleonora Brotto quattro Elena Piantoni cinque Giorgia Zaminato sei Martina Faini sette Maria Elena Morbin corsia otto Grazie Sara Bellocchi in corsia otto quattordici centesimi alla virata di metà gara su Greta Delfini alla tre cinquantaquattro centesimi su Pinarello alla quattro sessantatré su Lucisano alla cinque Greta Delfini due vasche alla conclusione un e settantacinque il vantaggio su Martina Pinarello in corsia quattro ecco la Greta Delfini che si avvia a concludere la sua prova cerca di riportarsi sotto Martina Pinarello alla quattro ma Greta Delfini mantiene un rassicurante vantaggio che le consente di aggiudicarsi questa prova due zero sette ottantotto e di portarsi al comando della classifica provvisoria Grazie Grazie Grazie